C'è una nuova zona infetta in Call of Duty, Bergdansk, di Warzone. I non morti sono arrivati all'ospedale. Gli zombie saranno ancora più aggressivi e su questo ultimo aggiornamento sono arrivati all'ospedale, all'angolo sud-ovest della mappa. I non morti da uccidere saranno moltissimi ed intorno all'edificio saranno disponibili delle ricompense speciali, migliori rispetto a quelle classiche. Raven Software ha pubblicato giovedì scorso un resoconto sull'infezione. L'ospedale non è più sicuro. L'epidemia si sta diffondendo dalla nave di carico alla prigione, ora anche in questo nuovo luogo. Si pensa che l'infezione possa estendersi in tutta la mappa, per poi essere bombardata e passare ad una nuova località. Non ci sono ulteriori voci al riguardo. Seguiteci per nuovi aggiornamenti.